Questa è ReteRete24.it Cari picciotti, ripalemmo, vi volevo dire che mi dispiace molto, cosa? La sarei una città così bella, minchia! No, 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 scusate, la minchia, volevo dire, la parola minchia in questo caso è usata come la virgola, dice lasciare una città così bella, virgola, pur ciò, pur ciò, pur ciò, il calcio è così, oggi si cà, rumani si cà. E questo si è capito, oggi si è qui. Mi dispiace, Cavuyaci, Ciavitico mia. Mi dispiace che voi ce l'abbiate con me. Io un miscurdo, i ruani... Non dimentico, i ruani, i due anni... Passati dentro il stadio, la favorita. Passati dentro con il bellissimo stadio, la favorita. Minchia! Vieni, vieni, vieni. Vai! Fossa, palenutani, facciamo a pace. Ecco, no, fermiamoci, dillo questa devi dire più chiara, vai. Facciamo a pace, finalmente. Ora ce l'ha promesso. Prometto che quando vigno a palenu, ca' Fiorentina, si suigno, non esulto. Ecco, e questo è uno. Esultiamo noi. Ma! Sì! Sì! Sì, per caso! Sì, per caso, avessi esultare Picchu... No, Picchi. Picchi. Muscoddo. Picchi, Muscoddo. Traduco, se per caso dovessi esultare, che magari me lo dimentico... Mi potete tirare i cacoccioli. Sì, cacoccioli. Mi potete tirare i carciofi. Ah, ecco. E ora c'è una cosa molto bella che dice Luca. Che io... Hai bisogno del vostro tifo. Quando speriamo io che ero in Germania, ai mondiali. E poi? E qua? E qua, scusate, mi tocco i batti. Che si è capito? Ca' non si sa mai. Minchia. Qui a dentro. Allora. Andrà a giocare in Germania, ma si tocca qualcosa perché non si sa mai nella vita. Ultima frase. Vi voglio bene, i vostri compari. Luca, Antonio, detto Tony.